E' domenica, siamo in campeggio di net della roulotte, stiamo lavorando, abbiamo finito Dusseldorf e Parma come fiere, stiamo per pianificare Parigi, Beringham, Berna, Bruxelles e altri. Oggi però c'è un discorso che mi preme fare e che credo sia davvero importante. E' un tema che ha un nome, un oggetto, che è la dignità. Dignità significa che quando si apre un gruppo su Facebook, per esempio, e ci si rivolge degli italiani, non si scrive gruppo scrivendo GRUP, perché allora se tu sei italiano e ti rivolge gli italiani, presumo che avessi voluto scrivere gruppo, ma se scritto gruppo significa che sei un alfabeta, che devi andare a scuola, ok? Perché se in tanti mesi non te ne sei ancora accorto, vuol dire che c'è un problema. Oppure, altra cosa, vuol dire che vuole scrivere gruppo in inglese? GRUP? E questo perché? Perché quando uno è italiano, deve rivolgersi agli italiani, deve usare la terminologia in inglese, perché si sente più figo? Perché si sente più bello? Perché si sente più in? Perché se uno deve utilizzare qualcosa che viene dall'esterno di se stesso, per sentirsi qualcosa in più, vuol dire che dentro sa di avere qualcosa in meno. Cioè, è un problema importante questo qui, bisogna rifletterci sopra. Per esempio noi di News Camp abbiamo un gruppo che si chiama News Camp Friends, è vero, è amici, ma in inglese, questo è verissimo, ma è tanto vero che non si rivolge solo agli italiani, avendo un pubblico che arriva da più nazioni, allora è stata scelta una lingua internazionale in maniera tale di non far torta a nessuno e farsi capire da tutti. Ma è un altro discorso, è come quello che fa il gruppo con over 20 years. Allora, intanto gli inglesi non scrivono, né in British, né in American English, e qui posso dare lezioni, scrivono over 20 years, ma scrivono in un altro modo. Ma poi la cosa è che problema c'è? Cioè, che problema c'è? Non si può scrivere con più di 20 anni? Perché uno, se ha il veicolo recriazionale che ha più di 20 anni, deve sentirsi di meno degli altri e allora usa una maschera, uno scudo, un pretesto, un tatuaggio, un qualcosa che ci si mette davanti perché si sa che dietro si è perdente qualcosa, allora ti metti qualcosa davanti come maschera. Attenzione, attenzione perché qui è importante a questo punto, uno scrive con più di 20 anni, dignità, o vogliamo fare come quelli che hanno l'automobile, io l'auto hybrid, e certo, perché ha il cervello vuoto, perché Toyota fa la pubblicità dicendo tecnologia hybrid, perché? Perché sa che chi lo deve ascoltare ha il cervello che non fa filtro, per cui prende e sputa fuori, perché se uno avesse un minimo di cervello direbbe hybrid, ah no, ma un attimo, io sono italiano, quindi è ibrida, ok? Quindi dignità, dignità, purtroppo Facebook è piena di gruppi di italiani che si rivolgono ai italiani e che utilizzano questi termini, come quelli con il movimentatore, hanno il movimentatore sulla roulotte o il mover, perché se dici che ha il movimentatore che cosa cambia? Adesso, seriamente, io uso il termine italiano, io sono questo, perché io, io posso dare lezioni, sia di British English che di American English, posso spiegarvi la benissima differenza tra cookies e biscuits, tre stations, railway station e so on, tra highway e motorway, la so la differenza, la posso spiegare e posso dare lezioni, ma proprio perché so le lingue straniere, quando sono in Italia ho la dignità di utilizzare la lingua italiana, che problema c'è? Che sono più figo se dico mover? No, è un movimentatore! Rimane un banale, banalissimo movimentatore! E buona domenica a tutti! Ciao, alla prossima!